Buongiorno, sono Francesco Merlini, uno dei curatori della mostra China Goes Urban. Per guidare i visitatori alla tematica di questa mostra, ossia l'urbanizzazione cinese, negli ultimi due anni abbiamo lavorato per progettare un percorso espositivo che, utilizzando la fotografia, il video e delle elaborazioni digitali, permettano di comprendere la complessità e tutte le dinamiche che sono collegate a questo topic.